Un arsenale ad alta pericolosità, armi con il colpo in canna pronte per l'utilizzo, non si esclude un possibile omicidio programmato. Una scoperta agghiacciante è quella della polizia di stato a Cerignola in un'abitazione del quartiere San Samuele. Un uomo, cinquantenne incensurato del luogo, è stato arrestato. Gli agenti nel corso della perquisizione del locale appartenuto ai genitori defunti dell'uomo finito in manette hanno rinvenuto un fucile d'assalto Kalashnikov di produzione cinese, una pistola semiautomatica con segni identificativi compromessi ed un revolver rubato in Emilia-Romagna oltre vent'anni fa insieme ad un ingente quantitativo di munizioni compatibile con tutte le armi citate per un totale complessivo di oltre 400 cartucce. Il tutto era nascosto all'interno di un refrigerante a pozzetto collocato in una camera da letto Per confondere l'olfatto dei cani specializzati nella ricerca del materiale esplosivo il cinquantenne aveva utilizzato diversi strati di panni in cotone e confezioni di caffè Non è da escludere che quelle armi potessero essere pronte per qualche colpo se non anche per qualche omicidio Le due pistole infatti avevano già il colpo in canna ed il fucile d'assalto oltre ad essere stato oleato da poco era stato segato all'altezza del calcio per essere utilizzato per far fuoco da un'autovettura in corsa una pratica consueta per utilizzare comodamente l'arma dall'interno di un abitacolo in corso anche approfondimenti per stabilirne l'eventuale utilizzo nei recenti fatti di sangue che hanno interessato il territorio fantino Il cinquantenne è stato condotto presso la casa circondariale di Melfi il GIP del Tribunale di Foggia ha convalidato l'arresto Il GIP del Tribunale di Foggia